Da alcune settimane i ladri stanno prendendo di mira gli esercizi commerciali di via delle Azzorre ad Ostia. Oggetto dei furti sono soprattutto gli ucchetti delle serrande. Secondo alcuni esercenti l'autore potrebbe essere un uomo di circa 60 anni. Cosa sta accadendo? È una vergogna. Questi episodi uno se li può aspettare comunque da un ragazzetto che fa una bravata, ma comunque da un uomo di 60 anni uno non se lo aspetta. Lui è stato ripreso in molti negozi di Ostia grazie alle telecamere e seguirà anche una denuncia appena possibile. Per ora avvisiamo comunque tutti i negozianti di Ostia di stare attenti, perché lui attende che vengano abbassate le serrande dall'interno dell'attività per poi rubare le serrature dette a cipolla, per comunque rivenderle a pochi euro. Fate attenzione. I furti sono continui qui? Adesso è diventato un continuo. Prima si era un po' rallentata la faccenda. Ora è diventato un continuo. Rubano le cipolle, rubano i negozianti e la gente ha paura. Ci vorrebbe un po' più di controllo delle forze dell'ordine. Tutto là. Sperando che ci danno una mano. Non gli si fa più. Ogni giorno ce n'è una. Poi noi qui abbiamo trovato delle siringhe, se vengono a drogare, una quindicina di siringhe, senza tappo. Io penso che i bambini giocano se fanno male. Sicuramente chiediamo più controllo, specialmente in questa zona di Ostia, perché si stanno verificando ultimamente molti, molti problemi tra noi negozianti. Specialmente adesso è uscita fuori questa moda di rubare le cipolle dai negozi. Non so se può essere, come a suo tempo, un avvertimento, una cosa che poi ripassano direttamente al negozio. Però sicuramente un po' di paura c'è. Spavento e paura ci sono adesso. Le videocamere di sorveglianza di alcuni negozi sono anche riuscite a riprendere l'uomo mentre rubava i lucchetti. Da Ostia per Canale 10 Paolo Leone